Allora, quando disegno questo tipo di soggetti la prima cosa che faccio, come sempre, prendo la misura prima la larghezza e poi con la larghezza misuro l'altezza dell'oggetto. Sto facendo disegni forti perché di solito le faccio più deboli, più leggeri, facendo segni forti perché siano visibili. E lo metto in questa posizione. La larghezza del mio disegno sarà questa e quindi l'altezza sarà, diciamo, questo più tanto, sarà circa questa qui. Dopodiché la prima cosa che faccio, chiaramente la misura che ho preso esclude il beccuccio e anche il manico. Adesso mi interessa di prendere le misure del corpo. Mi serve prima di tutto di trovare l'asse di simmetria che ho praticamente trovato qui. Poi prendo alcune misure, per esempio, metto sul soggetto, chiaramente, metto la matita in questa maniera per valutare quanto mi rientra. di solito io queste misure le prendo a occhio, però ci vuole un po' di allenamento a occhio. Dopodiché, in questo spazio ho la testa. la parte superiore. Poi circa a questa altezza, a questa altezza qui, la parte superiore. una doppia linea. E chissà perché le prendo sempre un po' corte queste misure, vabbè. quindi esco dalla forma perché mi sembra che sia così. ... ... ... ... ... voglio fare. Questa è la castagna, un'altra castagna sta qui. Queste le sto prendendo proprio a occhio solo per prendere un appunto, quindi non saranno perfette. Potrei anche prendere delle misure perfette. Ok, a questo punto il beccuccio sarà circa, finisce a questa altezza ed allargo così e mi parte sopra la metà. Ok, il manico è montato da qua a qua, praticamente è montato su quest'asse. E mi finisce esattamente nella stessa posizione. Ecco, ma come funziona? Funziona così. Così. Anche lui è largo circa tanto. Adesso sta prendendo le misure a occhio però. perché no? E arriva praticamente finisce qui. Poi vedo il pezzo sotto, parte stretto, diventa largo. Qui tornerà. Qui tornerà stretto. E queste sono le misure. Adesso questo così, qui sopra ciò, questo che mi arriva praticamente qui. ed è una cosa del genere. Così. Qui vedo lì dietro. Finisce qui. Ok. Adesso comincio a individuare alcune zone importanti. Una. Che poi si stringe. Qui c'è un peccuccio. Qui c'è un peccuccio. Di questo gioco qua. Se ritorno in dentro. Qui c'è un peccuccio. Per adesso lo individuo così, qui vedo che ho il riflesso di una delle castagne, l'altro è importante perché mi dà riferimenti, poi c'è questo, la castagna, il riflesso della castagna sta in questa posizione, arriva circa alla stessa altezza, ok, poi rispetto a questo qui ho un altro riflesso importante, stretto e importante, poi, questo è un po' troppo alto, questo sembra anche in questo modo, qui ho luce, ombra che viene fino a qua, altra ombretta, così, questo gira in questo modo, qui partendo da qui, arrivo fino in cima, qui c'è un'altra cosa, qui c'è un'altra, questa è più alta, questa castagna è più grande di quello che ho disegnato, adesso sto lavorando con la penna, quindi non ripulisco più niente, tante pazienza, fatto, poi qua dietro ho un'ombra portata, la devo appena accennare perché le ombre non hanno dei contorni così ben definiti. Ah qui mi serve per forza l'altra cosa, l'altra castagna. Questa castagna è decisamente piccolina, però ha i fili del bozzetto abbastanza relativi. Ok, e qui quindi questo, a questo punto, fa così, se ne va in questo modo. Va giù e arriva fino a qui. Diciamo, ah, dall'altra parte ci sono due ombre, una parte qui perché era male illuminato questo soggetto. Trova due riflessi. Questo va giù, così, addirittura fino a qui. Poi vedo anche questo. E va così. A questo punto chiudiamo l'inquadratura. Allora. 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 Arlo. Allora. Cheppero? Afforderemo. E fa così. Questa parte qui e va così. E fa questa. Questa parte qui. Grazie a tutti.